La chiesa madre di Gela è pronta per riaprire le porte alla cittadinanza. Sono stati eseguiti dei lavori, nello specifico quali? Il rifacimento degli stucchi, perché già alcuni erano ormai obsoleti e si erano frantumati. E poi la posa della foglia in oro negli stucchi laddove ci sono state delle lacune. E dopo la pavimentazione, dopo l'ambone nuovo e dopo tutto questo lavoro, io credo che oggi veramente la città può godere di questo nuovo tempio sacro. Abbiamo anche rifatto fare e rivisitato proprio le lapide della facciata principale nelle porte secondarie. Eppure questo è un lavoro in modo che quello che era possibile fare, grazie a Dio e soprattutto con l'attenzione della parrocchia e della CEI, noi l'abbiamo potuto realizzare. L'odiamo il Signore ed inneggiamo a Maria. La felice circostanza della festa della patrona che si avvicina coincide con questa riapertura. È davvero un momento felice per questa parrocchia, ma soprattutto per tutta la città che aspetta la sua patrona, l'abbraccio con la sua patrona. Io credo che la cosa più bella che possiamo esprimere è soprattutto perché quest'anno, nell'anno giubilare della misericordia, è questo abbraccio di Maria. Ed abbiamo voluto proprio questo volto della Madonna, perché nel volto della Madonna c'è veramente l'espressione della misericordia di Dio. È un volto che si china sul popolo, è un volto che ci mostra sempre il suo figlio Gesù, è il volto che ci viene a dire perché temere. Gela non temere, perché io sono accanto a voi. Per quanti disastri possono esserci a Gela, non vi abbandonerò. Ogni genese in questi giorni dovrebbe farsi abbracciare da Maria. Guardare occhi negli occhi e cominciare a stringersi a lei per tutti gli affanni che attraversano la città, senza andare nelle solite lamentele, ma cercando di poter riprendere fiducia e cercando di poter prendere coraggio, perché Dio non si stanca mai di avere misericordia per noi. Lei è la memoria storica di questa Chiesa, ha visto avvicendarsi tantissimi lavori e oggi è ritornata, possiamo dire, allo splendore di un tempo. Credo che già siamo arrivati alla conclusione di tutti i lavori cominciati già la bellezza di 30 anni fa, quasi a coronamento di questo mio servizio pastorale qui nella Chiesa Madre, e devo dire grazie a Dio che ciò si è potuto realizzare. Io all'inizio non ci credevo, ma dopo vedendo la necessità da una parte, vedendo l'urgenza dall'altra, vedendo anche l'emergenza di alcune situazioni improvvise e non aspettate, devo dire veramente tutta opera di Dio attraverso la preghiera costante di Maria. Infine, la sua vita è inscindibilmente legata alle pareti di questa Chiesa, che è un punto di riferimento per tutti i fedeli della città. Vuole condividere con noi il momento più bello e il momento più triste? Ma il momento più bello è soprattutto questo amore di tanta gente di Gela verso Maria. Il momento più triste sono le lacrime di tanta città che ancora soffre, ma soprattutto quello che veramente fa lacrimare, io la chiamo la lacrima della città di Gela, è lo scoraggiamento che c'è. Questo io lo noto nei giovani, lo noto nelle famiglie povere, lo noto nei...